Signora, mi potete fare un grosso favore? Ma chi è? Sono il signor Santa Croce No, io sono il signor Santa Croce Signora, signora, allora, mia madre è una persona anziana e non riesce a dormire perché il volume della televisione dice che è troppo alto No, io abitiamo a Via Umbria 51 Ah, ma io non abito a Via Umbria 51 E lei dove abita? A Napoli Eh? Napoli? Eh, grazie, anche io abito a Napoli, signora Signora, anche io abito a Napoli, in Campania Perché non c'è tempo da vedere Ah, c'è tempo da perdere, io ho tempo da perdere Un attimo solo che le passo mia nonna Signora, tutto il rispetto, signora, però te hai una certa età Cioè, a questa età noi vogliamo dormire, capisci? Signora, è che te l'abbiamo proprio bene Eh, lo so, signora Signora, ma lei mi vuole bene Vabbè, mi vuole bene lei Ah, che signora, io ve lo voglio dire Ma, non so se ne metto che parli normale, perché non mi capisco Ah, e siete, ma io interpreto la parte della vecchetta E quindi io parlare un po' strano, non mi fai Sì, ma non ci siamo niente Sì, ma vabbè, dai, signora, avete ragione No, avete ragione, scusate il disturbo, dai A riederci Ciao, vieni Ciao, vieni Ciao